Hanno fatto il giro del mondo le immagini della strage a per mano di un giovane ragazzo avvenuta in una scuola di Parkland in Florida. Fatti di questo tipo sono un po' al limite, ma se ci si trova a vivere attacchi violenti in luogo pubblico, come ci si deve comportare? Da qui è partito il seminario che si è svolto oggi all'Istituto Can Grande di Verona. Una mattinata all'insegna delle buone pratiche da assumere non solo in casi rischiosi, ma nella vita di tutti i giorni, dall'uso corretto dello smartphone mentre si guida, all'aiuto concreto e doveroso verso amici e compagni deboli e bisognosi di cure. Perché spiegare queste cose con questa semplicità, ma anche ruvidità potremmo dire, ai ragazzi? Credo che il motivo sia molto semplice. Gli esempi li abbiamo dietro l'angolo, i fatti che sono successi proprio ieri in America ne siano un grosso esempio. In Italia fortunatamente non siamo a quei livelli, però il motivo per cui ci ha portato a fare questo è che meglio essere preparati, meglio preparare i ragazzi, meglio preparare i professori e ad essere pronti in caso di. Quindi far capire loro come gestire un'emotività ad alto impatto di rischio, a gestire l'emotività negli eventi di rischio ad alto rischio, come può essere appunto un active shooter, denominato active shooter, presente in una scuola. Non necessariamente può essere una scuola, può essere un cinema, un teatro, il far capire il seminario, il primo, organizzato dall'associazione Safety Protection, composta da appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze Armate, con il patrocinio dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Verona e con il supporto del provveditorato scaligero, ha avuto come obiettivo quello di passare due concetti importanti ai ragazzi e ai loro docenti. Da un lato pretendere la sicurezza senza che questo porti all'acquisto di armi e dall'altro la necessità di ogni cittadino di essere parte attiva e positiva nella società. Noi non portiamo i ragazzi a avere la concezione che bisogna armarsi per difendersi, ma l'armarsi che noi chiediamo loro è di prestare attenzione a quello che le forze d'ordine hanno e mettono in campo con dedizione, sacrificio e con impegno. Quindi chiediamo loro di dare una mano in notizie, in informazioni e in tutto ciò che possa essere utile a noi per gestire appunto determinate situazioni. Quella è la loro arma, il capire come informare anche un operatore di polizia per far sicchiare il più preparato possibile in determinato evento.